No, i ricordi non servono. Io guardo indietro la mia vita e ho l'impressione che in verità sono sempre stato su una giostra, su un cavallo, su un cavallo bianco, senza pagare il biglietto. In verità, se ci pensi bene, la mia vita è stata terribilmente fortunata. Non ho mai lavorato, mai. Se uno pensa che il lavoro è qualcosa da cui si deve sfuggire, qualcosa che ti pesa, per il quale poi devi prendere le vacanze o avere degli hobby con cui soddisfare la tua frustrazione. Io non ho mai lavorato. Ho sempre fatto cose che mi piacevano. E ora la cosa divertente è che, come nella vita dei diplomatici, vai a casa loro, guardi a giro e capisci la carriera che hanno fatto, se sono stati in Russia, in Turchia, in Australia. E così anche qui, puoi capire dove sono stato, trent'anni d'Asia, trent'anni d'Asia. E poi tante cose degli amici che mi porto dietro. Questo viene dal Madhya Pradesh, in India. Ma in fondo, boh, chissà, alla fine solo qualche suono e soprattutto il silenzio. Mi hanno portato qua. E che hanno portato voi qua. E per questo in questa comunità di noi possiamo fare qualcosa che potrà servire a chi ci segue. Perché questo è il bello della vita. La vita è una. E se non ci rendiamo conto di questo, facciamo dei grossi errori. Allora, secondo me, è il momento che il mondo intero, l'Europa, questa grande civiltà di cui siamo frutto, aiuti l'America ad evitare il proprio suicidio, frascinando con sé la razza umana. La cosa strana è che per la prima volta l'uomo, e quando dico uomo voglio dire anche le donne, scusatemi, io sono della vecchia generazione, uso l'uomo con la U mauscola e penso al tedesco der Mensch, der Mensch, come le donne. L'uomo ha sempre annientato il suo simile, ma per la prima volta l'uomo dal 45 in poi ha nelle sue mani la potenza sacrilega, divina e naturale di distruggere l'equilibrio di quegli elementi che sono al fondo di ogni vita. L'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Ormai non riusciamo più a bere l'acqua, l'acqua che c'è nella natura, l'acqua dei fiumi, dei laghi, l'acqua, dobbiamo bere quella in bottiglia, perché l'acqua, quell'acqua lì noi l'abbiamo già e stessa cosa con la terra, lei pensi ai buchi che facciamo con questo petrolio, tutto, tutto, e col controllo del fuoco, l'energia atomica, quello che siamo capaci di fare. Per cui per la prima volta davvero non siamo come sempre stati bravissimi nel segar teste, siamo in grado di distruggere l'ambiente che ci ha finora tenuti in piedi. Siamo in grado di eliminarci come specie. Con il mio nome cinese? Dan Kian Ngo. Approvato dal cielo. Questa volta sono voluto venire in Europa non a vendere il libro, ma in una sorta di pellegrinaggio di pace, perché voglio andare nelle scuole, voglio parlare con i giovani, voglio portare la voce non tanto della ragione, ma la voce del cuore, la voce che tutti hanno, anche quelli che vivono normalmente, il cuore parla con la stessa voce in tutti, la stessa voce anche in differenti lingue, è la voce della pace. Non ci sono discussioni, se lei chiede a chiunque ma tu vuoi la guerra o vuoi la pace. Tutte le religioni dicono non uccidere e non dicono non uccidere i bifedi, non uccidere quelli come te, non uccidere il tuo vicino, dicono non uccidere e magari include anche non uccidere gli animali. Io sono nato con la carta stampata e sto finendo questa mia cosiddetta carriera professionale che poi, questo del giornalismo non è una professione, è un modo di vivere, almeno lo era nel mio caso. Questo viaggiare il mondo tentando di cercarne la verità, sapendo fra l'altro che non c'è, per cui questo processo, l'andare, l'andare, la meta non c'è, questa verità non c'è, ma è l'andare a cercarla che era bello. L'elettronica sta creando una scorciatoia incredibile, ma ti toglie anche la meta e ti toglie anche il piacere dell'andare, per cui tu, io l'ho visto sul Tiananmen, quando molti giornalisti stavano nella camera dell'albergo a cento metri dalla piazza dove avveniva il massacro, a guardare sullo schermo della televisione che trasmetteva in questa perversa cosa che è il real time, le immagini che avvenivano a duecento metri. Allora il giornalista, scritto, guardava su quella televisione quello che avveniva a pochi passi e da quello scriveva il suo pezzo, perché in verità quella era la verità, perché quella verità era la stessa verità che a migliaia di chilometri i capi redattori, i direttori di giornali vedevano e così non c'era contraddizione. Ma ti vuoi, e qui è quello che verrà sempre più a mancare in questa virtual reality, l'odore, l'odore, la sensazione, la commozione, essere davanti ad uno schermo a vedere qualcuno ammazzato o essere davanti all'ammazzato. Ma la differenza è immenza. Quando ho visto le torri crollare ho capito che in verità in quello sgomento c'era qualcosa di positivo, ma sono convinto che quell'11 settembre era una buona occasione perché riflettessimo sul fatto che non possiamo continuare ad usare la violenza per risolvere i nostri conflitti. Lei pensi questa guerra? Questa guerra nessuno l'ha vista. Tutto è stato detto, fatto, raccontato sulla base di quello che gli americani hanno voluto farci raccontare. I primi filmati della guerra, quando sono stati rilasciati erano dei video con tutti gli omini verdi in un'atmosfera verde, sembrava un videogame. E secondo me questa era proprio l'idea, dare al mondo l'idea che la guerra non è quella cosa orribile, che uccide i corpi, che li fa a pezzi, che ammazza, che soffoca i bambini. È un videogame in cui questi omini verdi buttano giù altri omini verdi e poi basta picciare un bottone, si rialzano, ricamminano, ricomincia il gioco. E forse questo è il sacrilego punto, il punto più disumano che questa guerra ha introdotto nelle nostre coscienze di spettatori. Siamo tutti diventati degli spettatori di programmi televisivi, abbiamo solo un'attenzione che dura due o tre minuti e quella cosa lontana che lì ci appare sullo schermo verde, dove anche il sangue solo si vede, sembra una cosa coloratissima. Non è una cosa terribile, è un videogame, non riguarda noi, non siamo noi che moriamo. Infatti una delle cose che più mi ha colpito, pensi a 63 anni dopo tante storie di questo tipo, alcune piccole scene che ho visto a Hubble. Un giorno camminavo per strada, avevo dinanzi a me un uomo, appena più giovane di me, dietro il quale arrancava faticosamente senza una gamba una bella bambina con una stampella, forse sua figlia. Quanta gente avrò visto senza gamba in tutti questi anni? Eppure improvvisamente io che ho una figlia ho come sentito che quella bambina saltata su quella mina poteva essere mia figlia. E allora ho sentito l'orrere della guerra. Si arriva l'11 settembre, il Presidente americano doveva pure fare qualche cosa, poteva accadere che comunque ci sarebbero stati degli altri attentati. Che fare? È sbagliato combattare queste cose? Secondo me ha fatto la cosa più sbagliata che poteva fare, c'erano tante altre alternative. Per esempio aprire un dialogo, non dico con i terroristi, ma col mondo islamico per isolare il terrorismo. E poi perché sono profondamente convinto che i terroristi non si eliminano uccidendo i terroristi e chiudendo le basi terroriste, ma eliminando le ragioni che danno origine al terrorismo. Perché per esempio... Un processo più lungo? Ma certo che è un processo più lungo, perché si è accorciato distruggendo quattro basi nel deserto dell'Afghanistan, anzi, secondo me si è fatto esattamente quello che si fa con un'operazione di cancro quando non si leva bene il cancro, va dappertutto. In questo momento in cui parliamo non ci sono più le basi in Afghanistan, ma ci sono secondo me centinaia di musulmani a giro per il mondo in posti che non sono delle basi, dove nessuno sappiamo che stanno preparando le bombe o le altre orribili cose con cui ci attaccheranno. Perché l'operazione militare, così come l'ha concepita il signor Bush e il Pentagono, non ha risolto affatto il problema della nostra sicurezza. In nessun modo, anzi, l'ha creato di più. Senti, ma mettiti al posto di Bush. Non posso mettermi al posto di Bush, non posso mettermi al posto di Bush e nessuno, grazie a Dio, mi metterebbe al posto di Bush. Però posso dire che intellettualmente Bush aveva molte scelte, ha preso la più banale, la più automatica, la più ovvia e la più orribile, quella di usare una più grande violenza per risolvere il problema di una violenza. Abbiamo mai visto nella storia del mondo una violenza che ha messo fine a una grande violenza. Forse la violenza non è la soluzione ai conflitti. Forse l'odio davvero genera solo l'odio. E come disse quel grande indiano di 2500 anni fa, che non chiamo Buddha perché la gente non dica che a terz'anni è diventato buddista, induista, ma che sono rimasto quel che sono, un fiorentino con 63 anni di esperienza in questo mondo. Quel grande indiano di 2500 anni fa disse l'odio genera solo l'odio e l'odio si combatte solo con l'amore. Mi permettete di dire che io sono ancora di quella generazione che dice fare l'amore e non fare sesso. E trovo che se insegnassimo ai nostri figli e ai nostri nipoti a continuare questa bella tradizione di fare l'amore. Forse imparerebbero loro stessi più amore, ma dico in questo caso non è l'amore per i terroristi, è l'amore per quel che ognuno di noi ha dentro, terroristi e non terroristi, l'umanità. Siamo espressioni del divino e allora smettiamo di andare a darci colpi in testa, ammazziamo quello, ora andiamo a ammazzare uno in Nord Corea, poi ammazzeremo uno, qualche centinaio, qualche migliaio, qualche centinaio di migliaio, chi lo sa? E poi gli altri devono stare fermi, non fanno niente contro di noi, una violenza si accumulerà, un'altra violenza e alla fine forse noi scompariremo come specie, come noi abbiamo fatto con il nostro grande progresso scomparire tante specie. Poi davanti un'opinione pubblica piena di rabbia, assettata, in realtà, la calmi e non la aizzi, infatti io sostengo che l'operazione, una delle giustificazioni formali, anche perché secondo me, nonostante che secondo me il problema è molto più di sostanza e non è questo, ma la forma è stata data come una grande vendetta e io uso per spiegare questo, per esempio, questa orribile foto del talibano catturato, imbarbagliato, che ci hanno fatto vedere gli americani a Guantanamo nella sua gabbia come una tigre, non è stata presa da un paparazzo su un albero che di nascosto ha colto questa immagine, questa immagine ce l'hanno fornita liberamente i servizi di informazione americani, perché? Perché i servizi di informazione americani volevano dare l'immagine della vendetta realizzata, l'operazione è stata venduta come una grande vendetta ed è la vendetta un'espressione di civiltà? No, tutta la nostra cultura, da Caino ad Abele alla tragedia greca è il superamento della vendetta, la politica nasce dal superamento della vendetta. E come lo fa il teatro greco? Il teatro greco cerca, e in certi modi secondo lei pensi a Eschilo, riesce a portare questo messaggio alla platea, al pubblico, rappresentando sulla scena i sentimenti dei contendenti, si vedono i due contendenti, ognuno che porta sulla scena e parla dinanzi al pubblico i suoi problemi e il suo conflitto. Ma lei pensa dall'11 settembre ad oggi, sulla scena di questo teatro che dovrebbe farci superare il senso della vendetta e dovrebbe spiegarci qual è il conflitto, su questo teatro ci siamo solo noi, siamo protagonisti, siamo nel pubblico, siamo i registi, cioè la storia dell'11 settembre e quel che è venuto solo è tutta da parte nostra. Sono entrato in questa scuola e mi si è stretto il cuore e ho visto questi muri imbrattati, tutto un po' sporco, tutto un po' de la brè, tutto tenuto senza amore e capisco che violenza genera violenza. Se voi vivete in un mondo che sentite violento, reagite con violenza. Se questi muri in cui sono scritte tutte queste porcate vi stimolano a scrivere altre porcate, lo capisco. Sono nato come voi, forse molto peggio di voi, in una famiglia poverissima. Mi piace sempre raccontare che i miei primi pantaloni lunghi per andare al ginnasio, i miei genitori mi li hanno comprati a rate, per voi questo è inconcepibile, vi comprate un paio di scarpe ogni due mesi, un telefonino ogni tre, non lo so, ma i miei primi pantaloni sono tanti comprati a rate. Però, devo dire, negli ultimi 30 anni non ho letto i vostri giornali, non ho visto la vostra televisione, non ho un telefonino, ho un modo diverso di comunicare, per cui certo che sono diverso. Lo so, la vostra vita non è facile, anzi, voi avete il senso di essere isolati, che il mondo non è vostro. Certo che uno legge il Corriere dello Sport, perché quello di cui parlo gli pare un problema che non lo tocca e che se lo tocca non ci può far niente. È frustrato perché il mondo è di quegli altri, di quelli con la cravata, di quelli che hanno il potere, di quelli che hanno i soldi e lui si deve consolare con una piccola cosa, col Corriere dello Sport, la sua amica, un viaggio al mare, una pizzettina. Il mondo è degli altri e il mio messaggio, ragazzi, è questo. Il mondo è vostro, potete cambiarlo, non fatevi intrappolare in ruoli che non vi piacciono, perché si può fare l'avvocato, il medico, il giornalista, lo psicanalista, il muratore, il fabbro, lo si può fare amando quel che si fa e si può in ogni professione inventarsi un margine di personalità, di farlo con passione e con amore. Ve lo garantisco, l'ho fatto io ed è possibile per tutti. quel che noi siamo ora, questo uomo che siamo, sapiens, forse, è il risultato di 5 milioni, ci dicono i antropologi, non so chi, dalla scimmia. Prima eravamo una scimmia, poi ci siamo alzati e attraverso i secoli, i millenni, siamo diventati quest'uomo che siamo. Fra 5 milioni anni, cosa saremo? Fra 5 milioni, una scimmia cibernetica, scotarvi negli orecchi, dei chip che ci fanno amusare chi è il nostro partner ideale, non lo so, oppure delle persone meno materiali, più legate allo spirito, più in sintonia con la divinità, col divino, più divine noi stessi. Io dico, abbiamo attraverso i millenni usufruito di un straordinario strumento, chiaramente, e da qui la ragione. Ma la ragione soltanto ci ha portato allo strumento di ora, perché la ragione ha dato la scienza, la scienza ci ha dato la forza di distruggere la natura, per cui ricordiamo ad altri strumenti che abbiamo, la coscienza. La coscienza è una straordinaria della coscienza. Perché non cominciamo ad indagare su chi davvero siamo? Per questo dicevo, chi è Tiziano Terzani non lo so nemmeno io, infatti non mi chiamo neppure più Tiziano Terzani in India. Leo si diverte molto a pensare storico. Ma soltanto prendendo in mano questa nostra coscienza e cercando di migliorare questa nostra materialità, di uscirne, io lo dico non siamo solo un corpo, non siamo solo un corpo sempre più da vestire con quella roba di scurazioni, un corpo da riempire di vitamine, un corpo da rendere più longevo, più bello. Siamo anche qualcos'altro. Il consumismo, così come noi oggi lo abbiamo messo tutto attorno a noi, finirà per consumarci. Il consumismo ci consumerà e l'unico modo per non farsi consumare dal consumismo è trovare una versione moderna del digiuno. Gandhi, con l'idea di far lasciare l'India all'inglese, digiunava e faceva digiunare la gente. Io trovo che una forma moderna di digiuno è quella di ridurre i propri consumi. Se tu pensi bene, il sistema economico è fondato sul fatto che la gente lavora da matti per produrre tante cose, molte delle quali sono inutili, che vengono comprate da persone che lavorano come matti per guadagnare quei soldi e per comprarsi le cose inutili. Ma perché no? Lavorare di meno, consumare di meno e avere più tempo come si aveva prima, più tempo per stare in silenzio, più tempo per stare da soli, più tempo per relazionare veramente con il nostro simile. Ma sinceramente, non ha mai pensato che una guerra potesse essere giusta? Sì, assolutamente l'ho pensato. L'ho pensato per esempio nella guerra cinese, nella guerra dei comunisti contro i nazionalisti, l'ho pensato e l'ho persino scritto, se leggete i miei vecchi libri, ho pensato che la guerra dei Vietcong contro gli americani fosse giusta, ho pensato che tutte le guerre di liberazione nazionali fossero giuste, sono arrivato persino a pensare che tante delle violenze che Mao ha usato in Cina nei primi anni del comunismo fossero giustificate e soltanto ora guardandomi indietro mi accorgo che quelle violenze non sono poi servite a tanto. Pensate al Vietnam. A quel tempo si credeva in qualcosa, io credevo, per esempio credevo che era giusto che la rivoluzione non vincesse, che i Vietcong e i comunisti a quel tempo si prendessero questa città e ne facessero una capitale morale di un altro paese. In verità ti accorgi, tornando, che quella guerra non è servita a niente, c'è stata un'accumulazione di dolore, di sofferenza, per gente come noi che ritorna la senti questa, la senti nell'aria, eppure ti guardi e non è che è cambiato niente, anzi, quello che oggi vedi succedere, questa corsa verso il danaro, questo arricchirsi, è quello che sarebbe successo se non ci fosse stata la guerra o ancora peggio, se l'avessero vinta gli altri. Forse se l'avessero vinta gli altri questo tipo di società sarebbe stata messa in piedi prima e probabilmente anche meglio. Allora c'è da chiedersi a che cosa è servito tutto questo? Quell'Occidente sconfitto quando si presentava con le armi, oggi torna a mangiarsi l'anima di questo paese con un modello di sviluppo, di modernità al quale nessuno sa resistere. America! America! Se una grande civiltà come quella cinese oggi e forse domani quella indiana non sono in grado di resistere al dio mercato, non significa forse Tiziano che ogni cittadino del mondo non vuole lui stesso, vuole lui stesso diventare consumatore. Certo, certo che c'è una parte dell'uomo che corre verso questa cosa e anche l'India, c'è una parte dell'India, specie l'India urbana, quella delle città, va in questa direzione. Io ho vissuto a Delhi per gli ultimi sette anni e lo vedo, l'ho visto dinanzi ai miei occhi, le giovani ragazze che non si mettono più il sari, che vanno dal McDonald's, che sognano i sogni presentati loro dai giornali femminili americani che hanno le loro ormai versioni locali. Però c'è ancora una grande parte della popolazione, in India ancora la maggioranza perché è agricola, che nelle campagne pensa ancora alla vecchia maniera e sogna vecchie cose. Sono d'accordo, l'influenza occidentale è fortissima, ma è proprio quella influenza che io tutta la vita in qualche modo ho visto come pericolosa, come inquinante. Pensa un po'. In India per esempio ora, grazie all'apertura della televisione ai programmi occidentali, ci sono trasmissioni americane che vengono tradotte in Hindi, che è la lingua locale. C'è una trasmissione famosa in America che si chiama Baywatch, dove ci sono queste bellissime ragazze californiane, prospere, giunoniche, che salvano della gente al mare, che affoga. Cioè è tutta una storia che si svolge sulle spiagge della California. Grazie ai satelliti, a questa cosa diabolica a mio parere, che permette ad un villaggetto con un'antenna satellitare di captare tutto questo, tu vedi decine e decine di contadini che stanno a guardare queste trasmissioni stranissime per loro, con tutte queste donne mezze minute. E ci sono già stati casi molto interessanti in cui i mariti indiani, i contadini picchiano le loro mogli perché non sono e non si comportano come quelle ragazze californiane sulla spiaggia. Ora voglio dire, è questo che vogliamo portare nel mondo, non bisogna lasciare i contadini in pace, avere il loro tipo di mogli, il loro tipo di rapporti con loro. Questo è il grande problema del nostro tempo. Devo dire la verità, nella logica di chi mi fa questa domanda sono antifeministe. No, no, ma è vero, nella logica di chi mi fa questa domanda sono antifeministe. Perché, e lo ridico in maniera diversa, sempre facendo questo paragone col mondo da cui vengono in questo momento, dobbiamo capire, io capisco che noi, nella nostra civiltà, per una donna l'ideale oggi è la parità con l'uomo. Per cui una donna sogna, è giusto che la veda così, di poter essere come un uomo, di essere come una, di diventare avvocato, poliziotto, pilota, calciatore, pugilatore, chirurgo. Dobbiamo però renderci conto che c'è un altro mondo in cui le donne non vogliono essere pilota, calciatore, vogliono essere madri, vogliono fare dei figli, occuparsene invece che metterli all'asilo, essere padrone di una casa, dietro le tende delle quali stanno eventualmente, avere i soldi perché controllano la casa, educare i loro figli e non affidarli a qualche istituzione come l'asilo. Allora, dobbiamo capire che c'è altra gente che la vuole diversamente. E se chiedete a me, a volte è una grande simpatia per le donne che vogliono fare madri, invece che il pilota. Perché la dignità è solo da una parte e non dall'altra. E poi, è forse dignità della donna questo mostrarsi nuda per fare la reclama a tutto, fare i concorsi di bellezza in cui mezze nude camminano davanti come dei pezzi di carne di cui si deve giudicare quale è il deretano migliore? Io trovo che è discutibile questa grande dignità occidentale della donna. Il burqa. Questo problema del burqa ha avvelenato l'immagine di Occidente e Islam e me lo lasci dire una volta per tutte e chiunque si occupa di Islam lo sa. E purtroppo gran parte dei giornalisti che hanno scritto di queste cose non si sono mai occupati di Islam, non hanno mai letto la storia, non hanno mai fatto una ricerca in quello che è. Il burqa è l'espressione più esterna per questo di un abito, di un principio fondamentale di un certo tipo di Islam che è il principio del parda. Parda vuol dire la tenda, è un modo con cui le donne vengono tenute separate dal mondo degli uomini e questo lo si vede in tutte le cose. Nell'architettura, la vecchia architettura islamica, chiunque di voi ha scritto architettura comparata lo sa, le case, i castelli, i compound sono fatti secondo il principio del parda. C'è una tenda, le donne sono separate, in India è bellissimo se andate a vedere città come la Medadale, lo vedete, ci sono queste bellissime lacchies, io non parlo più l'italiano, mi dovete scusare, ci sono queste sinestre interziate di legno dietro le quali le donne guardavano il mondo degli uomini perché le donne sono separate, parte, mangiano separatamente. Quante volte sono stato invitato con mia moglie in una famiglia, per esempio a Peshawar, di musulmani, dove io mangio col padre, i figli e mia moglie mangia con le donne. È così. A noi poi non piacere, ma è così. Allora, il parda, il parda nella sua espressione dell'abito è il burqa. E il burqa non è un'oppressione, il burqa è una difesa. Le donne hanno il burqa perché si difendono col burqa dall'aggressività del mondo esterno, del mondo maschile. E credetemi, quando le donne fra di voi avevano sette o otto anni, com'è che sognavano, giocavano ad essere grandi? Andavano a mettere i piedi nelle scarpe con il tacco alto della madre. Una bambina europea lo fa, mette i piedi nel tacco alto e fa fitta di essere grandi. Una bambina afghana prende il burqa della madre e se lo mette perché sogna il giorno in cui anche lei avrà il diritto al burqa, avrà il diritto alla sua femminilità. Che poi le donne afghane che hanno studiato, che sono vissuti all'estero, vogliano togliere il burqa. È assolutamente credibile, vero, e probabilmente un giorno le donne afghane mutteranno via il burqa. Come tante donne europee hanno fatto altre cose di questo tipo nel passato. È parte del mutamento delle abitudini. Ma io trovo che l'idea che noi andassimo a bombardare l'Afghanistan per togliere il burqa alle donne è una di queste bande che ci sono state raccontate dai politici e dagli ameritani e ripetute inconsciamente, ignorantemente da tanti colleghi giornalisti europei. L'abbiamo fatta così lunga, abbiamo giustificato quasi che siamo andati a bombardare l'Afghanistan perché i talibani avevano distrutto questi due benedetti Buddha di Bamiyan, che fra l'altro erano anche brutti. Ed erano nemmeno due Buddha, erano l'anima di due Buddha, perché i Buddha erano di gesso sopra, colorati, partiti già da dei secoli. La Freya Stah, una grande viaggiatrice degli anni 30, dicevano they are really ugly, aveva scritto. Allora, invece non abbiamo detto niente, la Cina ha distrutto il Tibet, una grande civiltà, un'intera civiltà distrutta, centinaia di templi, centinaia di monasteri, migliaia di statue di bronzo offuse. Non abbiamo detto nulla e la Cina non siamo andati a bombardarla perché non erano mica i talibani. Mao con la rivoluzione culturale, mamma mia cosa ha distrutto. Per cui c'è qualcosa forse, gli indiani direbbero nel karma di un popolo, forse le civiltà si esauriscono anche come tali e non hanno questa forza. E forse anche l'India finirà così prima o poi. Pensi, questa India che ha inventato questo abito stupendo per le donne, il Sari, che è proprio una cosa che esalta la femminilità nella maniera più deliziosa e più rispettosa. oggi nelle città se ne vede progressivamente di meno. Però in India c'è una bella cosa nella cultura, tradizione, nella religione indiana, che un uomo quando raggiunge 60 anni da noi va in pensione. Da noi a 60 anni uno va in pensione, smette di lavorare, fa i suoi soldi, prende i suoi soldi ogni mese, va a pescare, fa tutto quello che non ha mai fatto nella vita e spesso muore perché non è capace di adeguarsi a questa cosa della mancanza del lavoro e gli manca tutta questa relazione che prima aveva, quel potere, quella identità che il lavoro, l'attività gli dava. Lei non è più il dottor tal dei tali, il direttore della banca, non è più il capo ufficio, è un pensionato. In India non si va in pensione, in India si lascia il mondo. È un'istituzione in cui ogni anno, ma dico centinaia di migliaia di uomini e di donne, a questa età per noi della pensione, rinunciano a tutto quello che hanno, possedimenti, relazioni umane, il nome, gli abiti. Prendono i voti di castità, povertà, fedeltà e si mettono senza casa, senza niente, con un bastone a pellegrinare per l'India, a dormire nei jashram, nei templi e a mangiare quello che dopo averlo chiesto solo per tre volte ricevono dalla gente. E se dopo averlo chiesto tre volte nessuno si è dato a mangiare, quel giorno non mai. Ora, questi sagnasin, come si chiamano, sadhu, sagnasin è colui che rinuncia, rinuncia alla vita materiale, perché si dedica a prepararsi all'altra vita, sono rispettatissimi, la gente li rispetta, tocca ai loro piedi, da loro da mangiare. Allora, dico, fino a che una società avrà ancora questa istituzione, sarà molto difficile che diventi completamente fondata solo sul materiale, che aspiri solo alla materialità, come noi siamo diventati. Noi siamo diventati solo dei corpi, diciamoci noi, questo uomo occidentale così progredito, questo uomo che è capace di volare come gli uccelli, di andare sott'acqua come i pesci, di fare le cose più incredibili, di essere Dio, di clonare la vita, quest'uomo non ha fatto il minimo progresso dal punto di vista della sua anima, del suo spirito. Abbiamo forse meno paura ora di quanto ne avevamo prima della morte? Ci sentiamo ora meno soli di quanto ci sentivamo prima? Vogliamo essere amati da un altro meno di quanto eravamo prima? Non abbiamo fatto nessun progresso spirituale. crede che crede che si possa fare veramente un passo in su? ti ringrazio. Io credo che lo si possa fare ed è per questo che sono qua, se non avessi questa speranza starei sulla mia Himalaya a guardare le montagne, in pace, in silenzio, tranquillo, senza essere un pacco postale portato dai miei postini qui e là. Ci credo profondamente e sai perché? E ci credo perché ci siete voi, perché sto scoprendo una bella Italia di tanti bei giovani che hanno solo voglia di sperare e questa speranza è negata molto spesso. Secondo me è possibile, è possibile per ognuno di noi fare una piccola cosa nella nostra vita e tutti assieme farne una più grande. È un processo, non dobbiamo aspettarcelo in questo momento dalla politica, ma ce lo dobbiamo aspettare dai nostri cuori e voi mi ti direte ma che si fa? Io devo andare a scuola, devo fare questo. Tante cose si possono fare, ve ne suggerisco qualcuna. Fermatevi, prendetevi più tempo, datevi degli spazi vuoti in cui prendere coscienza di chi siete. Tutte le religioni hanno imposto il digiuno una volta alla settimana oppure un mese all'anno come i musulmani. Tutte le religioni hanno imposto il digiuno come forma di disciplina. Stiamo diventando terribilmente indisciplinati. Si mangia, si corre, si chiacchera, si comunica ma non si dice nulla e non sappiamo mai dove stiamo, non ci fermiamo mai a riflettere cosa faccio? Non vediamo le conseguenze delle nostre parole, delle nostre azioni, dei nostri gesti. Io dico, fermiamoci. Tutte le religioni hanno insegnato a pregare, nessuno più prega, ma che è sempre... Pensate, io figlio di un comunista, non ho mai pregato da grande, ho servito messa fino a 14 anni, poi sono diventato un mangia-prete come tutti i giovani della mia età, ma io dico pregate, pregate come vi pare, prendetevi 5 minuti, dinanzi alla pagnotta che oggi troverete, spero, sul tavolo che vostra madre vi ha preparato, ai miei tempi, in quella famiglia di cui vi dicevo, mia madre si segnava prima di mangiare, perché ringraziava qualcosa, qualcuno, del fatto che c'è una pagnotta davanti, meravigliosa. Ormai tutto questo lo diamo per scontato, ma voi sapete che noi mentre mangiamo così, senza accordi, mia figlia, si è il telefono, si risponde, accende la televisione, c'è migliaia di persone migliori che non mangiano, che non andano a mangiare e poi fate un esercizio oggi, quando andate a casa e mangiate, per un attimo, un attimo soltanto, guardate quello che state per mangiare, riflettete su quello e mangiate il primo boccone coscientemente, pensate alla vostra bocca che mastica e quel boccone che va giù e che vi dà forza, che entra nel vostro ventre e che diventa energia, riprendete il controllo di voi, siete in una macchina orribile che vi spinge a comprare, che vi vuole far tutti uguali, vi vuole tutti pensare alla stessa cosa, se vi fermate e prendete coscienza di voi, il mondo cambierà. La guerra, prima che essere fuori, è dentro di noi, le vere radici della guerra sono in noi, sono nei nostri desideri, nell'ingordigia, nella nostra arroganza, nel nostro arraffare, nel nostro essere sempre pronti a usare violenza nei nostri rapporti, la violenza è molto aumentata nella nostra vita, persino nella nostra generazione forse, se Reggi pensa bene, nonostante la mancanza di guerre nella nostra vita, nella nostra casa, il grado di violenza è molto cresciuto e il grado di isolamento di noi individui dalla natura, che secondo me è uno dei più gravi fatti che ci sono successi e di isolamento dai confronti degli altri, ha creato un grande livello di violenza. Allora io dico, se le ragioni della violenza sono come credo profondamente dentro di noi, la prima cosa da fare è lentamente cambiare noi stessi, prendere coscienza di come stanno le cose e lentamente fare qualcosa che muti il nostro dentro e poi il nostro fuori, lei dirà, ancora parole, bene, un esempio, noi due siamo due anziani, siamo in pensione, abbiamo dei risparmi, beh, io le dico, una prima cosa che ho fatto, sono andato a controllare se i miei soldi non sono investiti in aziende che fanno prodotti bellici, che producono mine, che fanno bombe o che fanno delle cose che io non condivido, che sfruttano il terzo mondo, che fanno delle cose che cambiano l'assetto economico di un paese lontano nel quale io farei soltanto una piccola percentuale di interesse, una piccola cosa, ma mi pare giusta. Bisogna imparare che ogni cosa che facciamo nelle nostre vite ha delle conseguenze lontane, dobbiamo renderci conto, proprio perché il mondo ci appare così complicato e per certi versi lo è, se non facciamo attenzione ognuno di noi diventa un inconsapevole assassino, perché se lei lo pensa era così al tempo del nazismo, uno faceva solo il gas e lo faceva il miglior gas che poteva, l'altro faceva il tubo del gas, il rubinetto, il miglior rubinetto, ma io non ammazzavo mica gli ebrei, quell'altro faceva solo un rubinetto, ma ognuno facendo il suo piccolo lavoro, diligentemente contribuiva alla macchina dell'orrore, è ancora oggi così, sia economicamente, sia in quel sistema globale di violenza che è, a mio parere, la stessa globalizzazione. Il dramma, forse dico dal nostro tempo, è quello che è così ben descritto che no, il marxismo-leninismo ci ha messo il tetto e ci ha chiuso la via verso il cielo, la psicanalisi e il resto ci ha aperto una sorta di bodola sotto, nell'inconscio, in tutto ciò, e forse si tratta di ritrovare anche in questo un equilibrio, certo che è interessante quella bodola che ci fa inciare in questa cosa misteriosa che è la nostra psiche, l'inconscio, ma il cielo e abbiamo dimenticato questa dimensione. Tu pensi al gioco del bigliardo, le palle, un colpo e quel colpo fa muovere tutte le palle in un certo modo, ma se tu soltanto ha una palla, la sfiori soltanto, tutto il gioco cambia, tutto il gioco cambia. Ecco, io dico, questo è il momento in cui forse ognuno di noi può ad una delle palle dare un piccolo tocco, col suo atteggiamento personale, col mutare certe abitudini, col cambiare il modo con cui si guarda al prossimo, alla natura e tutto il gioco potrebbe cambiare. Io sono fiorentino e Firenze ce l'ho nelle bodola. Ho bisogno della nostalgia di Firenze per sopravvivere, ma non debbo assolutamente soddisfare quella nostalgia perché sarebbe il mio suicidio. Quando stavo in Cina ero cinese, mi parevo un cinese, ero vestito da cinese, parlavo cinese, viaggiavo in bicicletta cinese, perché questi cinesi hanno un certo momento, fermo te, non sei mia cinese, e mi hanno messo in prigione. E ora sono in India, come vedete, sembro un indiano, ma in verità sono fiorentinissimo e più invecchio, più scopro che sono fiorentino, più le mie reazioni sono quelle imparate a quella tavola di mio padre comunista, di mia madre cattolica e senza la televisione. Siamo tante cose dentro, io a volte lo sento, sono tanti momenti nella vita in cui ho sentito forte che dentro di me c'era l'assassino, il ladro, tante cose siamo, ed è poi questa cosa bella che abbiamo, la coscienza che tiene l'assassino a controllo, il ladro a controllo, e in verità c'è anche questo dentro di me, io sono un evaso come persona, la mia natura è quella di evadere, sempre, scappare, nascondersi, scappare, viaggiare, andare lontano, lo dico sempre. Ho imparato, e l'India in questo è straordinaria, perché è vecchia, perché è passato tanto acqua in quel gange, o cerco di imparare ad avere la morte come compagna, perché allora si vive molto meglio, la vita diventa molto più bella, se sai che la morte è lì e non è una sorpresa, è come un albero, se tu vedi un albero, quello che vedi sopra la terra è l'albero, poi c'è un altro albero sotto, identico, stessa struttura, stessa grandezza, stessa forma sotto, e forse la morte è quell'albero sotto, e noi non siamo soltanto la parte sopra, siamo tutti e due, e se tu accetti questo, forse lentamente la vita, quella parte sopra diventa ancora più bella. Ha visto il mio orologio? Questo è uno strano tempo, c'è un Buddha, per cui è l'eternità intrappolata nel tempo. Non è un prodotto del mercato globalizzato? Ah no, 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 questo è un prodotto particolarissimo, è per niente globalizzato, anzi spero che ora che viene visto non verrà globalizzato e fatto da Swatch, è un prodotto buffissimo, è un orologio che ho pagato pochissimo, 5 dollari, l'hanno fatto i sovietici nel 1991 per celebrare, per ingraziarsi i buriati, che sono una piccola tribù che vivono nel sud di quella che era l'Unione Sovietica, per celebrare il 250esimo anniversario dei buriati diventati buddhisti, ce ne sono pochissimi e l'ho trovato in un mercatino al confine fra la Mongolia e la Cina, ed è molto carino, una volta quando sono andato a trovare il Dalai Lama durante l'intervista vedevo sempre il Dalai Lama che guardava questo orologio e siccome so che il Dalai Lama come hobby ha di riparare l'orologio, ha detto oh your holiness non mi dica che le piace, altrimenti le devo dare e lui ha fatto una delle sue grandi risate.